bentornati su my football jersey inutile dire che con l'arrivo di messi all'inter miami le maglie sono diventate tra le più ricercate quella che vedete è la prima maglia in edizione fan e ci vuole un po per rosare con rosa ma questa maglia secondo me è veramente bella e ben fatta il costo lo vedete qui sopra molto basso tra l'altro vi ricordo che in descrizione trovate anche un link per ottenere un coupon di 3 dollari quindi quel costo che vedete diventa ancora più conveniente qui sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate a vedere questa e altre bellissime maglie che vi attendono ora prima di lasciarvi alla parte finale io spero possiate regalarci un grande like ma soprattutto iscrivervi al canale a voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan a voi non costa nulla ma ci vedete è una taglia media ciao 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 ciao